Un'altra serie per il progetto La Pietra Music Channel Questa volta è incentrata su prodotti furbi, tecniche terragironi convenienti tecnici e video chiarificanti su alcuni dubbi emiletici Questa è la playlist trucchi e barbatrucchi Per poter ricevere prima di tutti i nuovi video di questa e le altre serie del progetto La Pietra Music Channel iscrivetevi subito sul nostro canale YouTube e sarete i primi a ricevere i nuovi video In ogni caso non dimenticatevi di seguirci sui social network Facebook, Twitter, Google Class e Pinterest per stare sempre in contatto con le nostre attività Un saluto da tutto lo staff della Pietra Music Planet Ci vediamo sul web a a a a a a a a a Grazie a tutti.